A distanza di circa una settimana dalla messa in onda del servizio relativo al presunto avvistamento UFO che sarebbe stato filmato durante l'esibizione delle frecce tricolori a Forte dei Marmi nel giugno scorso, siamo stati contattati dai responsabili di un blog dedicato appositamente ad analizzare gli eventuali avvistamenti di oggetti non identificati nei cieli italiani. Secondo quanto riportato da UFO of Interest, quello che si vede nel filmato prodotto dall'operatore Fabrizio Scorza, altro non sarebbe che un riflesso prodotto dalle lenti dell'obiettivo della telecamera. Come evidenziato nell'analisi sintetizzata nel video a corredo, il presunto oggetto si muoverebbe in maniera sincrona sia con gli altri riflessi sul fotogramma, sia con il movimento dello zoom dell'obiettivo. Ad avvalorare la tesi di un semplice lens flare o riflesso della lente, ci sarebbe anche, sempre secondo i responsabili del blog, il fatto che nessuno dei presenti abbia notato l'oggetto e che anche lo stesso operatore ne abbia percepito la presenza solo in un secondo momento, in fase di montaggio dei filmati. Un semplice riflesso dunque? Sicuramente la tesi del blog è di gran lunga più verosimile di quella di una navicella aliena, spettatrice delle evoluzioni della pattuglia acrobatica.